Simon Franco, Corriere della Sera, autore, una delle più apprezzate biografie di Giulia Andreotti che è stata rivista in occasione dei cent'anni dalla nascita di Andreotti. C'era una volta Andreotti ritratto di un uomo, di un'epoca e di un paese. Ora Andreotti si può dire le ha viste tutte o quasi tutte, due guerre mondiali, non so, il fascismo, la prima e la seconda repubblica, una serie di processi per mafia. In che senso però Andreotti, il racconto di Andreotti è il racconto del paese? E di quale paese eventualmente? Il racconto di un paese, senz'altro. Il racconto di un paese che è stato quello dell'interclassismo, quello che è stato plasmato dalla guerra fredda, un paese nel quale Andreotti ha rappresentato lo status quo. Andreotti era il garante di un sistema che non voleva che cambiasse, che vedeva ogni riforma come un pericolo, che aveva il compito di tenere a bada, di controllare, di rappresentare tutti quei ceti moderati che avevano paura dell'avventura, quindi di uno spostamento a sinistra del paese. E quindi lui in qualche modo rassicurava questi ceti, faceva in modo che non si spezzasse questo interclassismo e aveva capito molto bene che in realtà quello che era il nemico ideologico della democrazia cristiana era la sinistra, ma il vero concorrente elettorale era la destra. In una sola frase Massimo Franco ha detto due cose che sono ormai superatissime secondo la vulgata. Per esempio Andreotti, come reagirebbe a tutti quelli che dicono che non esiste più la destra e la sinistra? Perché lei ha citato il Partito Comunista e ha citato la destra. È vero che oggi mi pare che ci sia molta confusione e c'è una tale frantumazione sociale che quello che vediamo è che le categorie di destra e sinistra tendono a mischiarsi e se vediamo oggi l'elettorato, quanto è volatile, come va da destra a sinistra... Come velocemente si sposta. Esattamente, pensiamo a tutti gli elettori di sinistra che hanno votato per Salvini o per i 5 Stelle certamente si tende a dire che c'è una divisione che passa più per ostilità all'establishment o essere parte dell'establishment. Sì, il quale poi establishment poi non riconosce se stesso, nel senso che poi sei diventato un potere. Non solo, ma oggi abbiamo il paradosso di un establishment giallo-verde, come si chiama, il quale appoggia i gilet gialli in Francia e si sente di piazza. E si sente di piazza. Quindi questo fa capire che siamo in una fase di grande confusione. Ma io credo che per capire cosa siamo stati bisogna analizzare bene cosa è stato Andreotti e cosa è stata la sua Italia. Allora, io non le chiedo un giudizio definitivo, anche perché è sempre complicato. Perché quando si parla di Andreotti, c'è chi dice era un santo, cioè in qualche maniera ne fa un'idealizzazione e c'è chi dice era Belzebù, cioè veramente il peggio del peggio. Siamo in zona purgatorio? Certo. E il libro è un po' la celebrazione del purgatorio. Beh, comunque è lo specchio del purgatorio. Nel senso che quest'uomo, secondo me, vede, io ho l'impressione che la verità che tende a dare di Andreotti un'immagine angelicata e quello che tende a dare un'immagine demonizzata siano tutte e due molto molto parziali, ma soprattutto non servono a nulla. E sono due verità, ormai si è capito, inconciliabili. Quindi forse sarebbe il caso di storicizzare il personaggio pensando che sia l'Andreotti Belzebù sia il Divo, in realtà sono due facce di una stessa medaglia, di un'Italia che ha vissuto profonde contraddizioni, di cui Andreotti è stato l'emblema. Sì, inquietanti, no? Certamente. Perché Andreotti si è fatto i suoi processi per mafia. Sì. E persino il modo in cui è uscito da quei processi è andreottiano, no? Persino la sentenza è andreottiana. Molto purgatoriale. Perché il mede è purgatoriale anche quello. Assotto è prescritto. E con un giudizio che non riesce mai a trasmettere una verità univoca, almeno per alcuni. Lei racconta che lui aveva degli incubi rispetto ai processi di mafia? Beh, racconto che... Che conservava di quello evidentemente. Racconto che qua... No, no, ma durante i processi Andreotti mi raccontò che sognava di essere un ascensore senza porte, da cui non riusciva a uscire, oppure che si perdeva per le strade di Roma. Tant'è vero che lui ricorse ad uno psichiatra che era il professor Cassano, che aveva una clinica San Rossore in Toscana, dove sia lui che la moglie andarono, perché i riflessi anche psicologici di questi processi furono profondi e duraturi. Il che ci dà poi anche la possibilità, ma questo vale sempre comunque di vedere un'altra faccia, no? Cioè, voglio dire, al di là di quello che si pensa di Andreotti, poi c'è un aspetto che è puramente umano, che è quello che prende il colpo, lo deve digerire, lo deve elaborare. Lei citava la moglie. Penso che in questo tempo che è tutto fatto di selfie, di autocitazioni, di privato che è solo pubblico, non ha più niente di privato, mi viene in mente che la famiglia di Andreotti è stata praticamente inesistente, invisibile per moltissimo tempo. Un po' perché era un'epoca della nostra storia in cui la democrazia cristiana, il partito comunista, ma tutti i partiti avevano una concezione quasi sacerdotale, intendo dire non come penitenza, ma come immagine esterna estremamente senza famiglia, anaffettiva. Un po' perché in effetti la famiglia di Andreotti aveva quattro figli, Andreotti, è stata sempre una famiglia molto discreta e se uno li conosce si accorge che sono persone normali che non hanno mai avuto nessun rapporto con la politica e la moglie era una persona di una grande ironia e di una grande classe. Andreotti aveva però anche con la moglie un rapporto molto controllato, molto controllato. Era Andreotti anche a casa, diciamo? Ma secondo me era più Andreotti la moglie, nel senso che la moglie era una persona molto affabria, molto dura con i figli, la vera educatrice dei figli era lei. Andreotti era un complice, cioè Andreotti era uno che siccome temeva che i figli fumassero, gli regalava stecche di sigarette e quando andavano a scuola con il risultato poi mi raccontavano dei figli che il figlio è diventato un tabagista, nel senso che fumava due pacchetti di sigarette al giorno. Ce le aveva disponibili. E poi anche l'immagine di Andreotti in doppio petto, questa foto che fate vedere, in realtà Andreotti a casa mi raccontavano, stava sempre con una giacca stazzonata, sgualcita, a volte anche macchiata, che i figli chiamavano la giacca del pervertito. Cercavano di fargliela cambiare ma era di una pigrizia tale che si arrabbiava con la moglie quando la moglie voleva fargli mettere la camicia pulita e se l'era sporcata. Era uno che guardava tanto la televisione? Sì, la guardava la televisione però negli scampoli di tempo perché, in realtà Andreotti è stato un padre, loro dicono presente quando c'era, ma in realtà spesso assente, quindi amava la televisione ma in un modo un po' particolare. Pare che imputasse a Berlusconi la diffusione di alcuni programmi televisivi come il Grande Fratello che avevano rovinato il paese. Lì c'era una rottura proprio antropologica, nel senso che Andreotti era un professionista della politica e vedeva Berlusconi come un dilettante che aveva usurpato i ceti moderati, quindi c'era anche un po' di invidia tra virgolette nei confronti di Berlusconi, non solo da parte di Andreotti. Lui ha fatto divertire moltissimi vignettisti, è stato materia proprio per tantissime vignette. Come la viveva? Ma la viveva bene, con qualche stilettata perché mi raccontava il nostro vignettista del Corriere a Sere, Emilio Giannelli, che è di una bravura eccezionale, che una volta fece su Andreotti una battuta particolarmente tagliente e Andreotti gli rispose mandandogli un biglietto in cui gli augurava di avere tutto quello che meritava, che era una cosa un po' a doppio taglio. E' terribile, è terribile. Allora, noi vi abbiamo dato un assaggio. C'era una volta Andreotti, ritratto di un uomo di un'epoca e di un paese. Massimo Franco, la lettura è molto gustosa, io ve la raccomando. Grazie. Grazie mille.